Il sindaco, domani Napoli inizia, una sfida importante da primo cittadino, da sindaco, da napoletano, quale il pronostico e come guarda la giornata di domani a questa importante partita? Non c'è pronostico, c'è l'imperativo che si deve per forza vincere, bisogna cominciare bene, mi sembra che c'è la concentrazione giusta, la mentalità vincente, però si vince sul campo, non si vince prima della partita, mi auguro che ci sia un grande tifo allo stadio ma quest'anno c'è davvero tanta fiducia e i ragazzi, il mister, la squadra non devono perdere mai concentrazione, umiltà e determinazione.